Direttore, parliamo di terapie domiciliari e pazienti affetti da Covid-19. Quali sono le indicazioni da seguire? Sì, allora, i pazienti a domicilio sono la stragrande maggioranza. Se facciamo 100, 95-94 rimarranno a domicilio, per cui dobbiamo gestirli seguendo e monitorando strettamente i loro parametri vitali. Questa è la prima cosa da fare. Poi dobbiamo consigliare tutta una serie di stili di vita, cioè di strategie non farmacologiche per il paziente, per cui la mobilità all'interno dello spazio di isolamento, la corretta alimentazione, il corretto stile di vita e poi dobbiamo consigliarle anche in caso di febbre elevata, dolori muscolari, tosse, una serie di farmaci come antipiretici, come antinfiammatori, per cercare di lenire questi iniziali sintomi. Ma la cosa più importante è proprio quella di monitorare il paziente. Il paziente si sente seguito a fiducia nel medico del territorio e allora il medico di famiglia è sicuramente la persona più adatta a capire una variazione nei parametri vitali, in particolare la saturazione. Il paziente che è satura bene probabilmente avrà solo bisogno di qualche contatto sporatico, l'esempio tipico è il giovane adulto. Una saturazione potrebbe uscire tra 97 e 98. Invece il paziente anziano deve essere immediatamente identificato dal collega perché si può aggiovare in maniera estremamente precoce dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali. Sono pazienti anziani o pazienti che riconoscono delle comorbidità importanti cardiovascolari, neurologiche o anche la semplice obesità, ma un'obesità marcata con un BMI superiore a 35. In tutti questi pazienti è fondamentale iniziare un anticorpo monoclonale nei primi tre giorni dall'esordio dei sintomi. Poi nell'evoluzione del paziente, nella valutazione del monitoraggio dei parametri vitali del paziente, dobbiamo essere molto attenti a cogliere quella variazione in peggioramento della saturazione perché se quel paziente mi arriva a 95, 94, io probabilmente lo devo seguire non più giornalmente ma anche due o tre volte perché potrebbe essere il paziente ideale a un trattamento precoce in ospedale in cui possiamo utilizzare gli antivirali, il cortisone, l'eparena, tutti i farmaci che sono come dire deputati di alla gestione ospedaliera. A casa ne abbiamo altri, la tachepirina, gli antinfiammatori, i monoclonali, poi stanno uscendo nuove evidenze di altri farmaci di cui parleremo nel corso, ma sono due regimi diversi, quello a domicilio, quello invece in ospedale. Se io ad esempio anticipo l'utilizzo del cortisone nella fase a domicilio posso prolungare la fase antivirale, cioè perché il 95% dei pazienti non si ricovera? Perché fa un'immunità che diventa neutralizzante il virus, sia immunità umorale che cellulone mediata. Se io gli do subito il cortisone, deprimo questa immunità, prolungo la fase antivirale e questo paziente può peggiorare. Vi sono dei soliti dati dal recovery trial inglese, questo magnifico studio inglese, che evidenziano che il cortisone prescritto in pazienti che non fanno ossigeno determina un peggioramento in termini di mortalità del 19%, per cui comprendiamo che esistono due strumenti terapeutici che sono anche non farmacologici diversi, quello a domicilio, quello in ospedale.